Con le festività natalizie complice a un clima primaverile, la Valle dei Templi di Agrigento è stata fra le mete più visitate dai tanti turisti che hanno scelto la Sicilia come luogo in cui festeggiare la fine dell'anno. Per l'occasione è stata intensificata l'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine e della polizia locale. Molte auto sono state lasciate anche in curva, oltre che in doppia fila. Sono state settante, infatti, le contravvenzioni che gli agenti della polizia municipale hanno elevato per violazione del divieto di sosta lungo la via passeggiata archeologica. Diversi controlli, inoltre, sono stati fatti anche al Viale Alberato, lungo Contrada Sant'Anna e sotto il Tempio di Ercole, dove sono state riscontrate auto parcheggiate in modo irregolare. È una situazione che si ripete spesso, sottolinea chi conosce bene la zona, soprattutto in occasione della prima domenica del mese, quando l'ingresso alla Valle dei Templi è completamente gratuito.